Il pubblico di San Siro sta rispondendo in massa all'appello del Milan che assoluta necessità di ottenere i tre punti per non perdere, contatto con la Juventus che già accenna un tentativo di fuga. Un tocco d'esterno per Scevchenko, Serginio, Calazze, bella azione di prima, ancora Scevchenko, Perinzaghi, la sfonda, Scevchenko, il tiro, rete, Scevchenko, 1-0. Primo gol, penso mi dà tanta soddisfazione perché è stato costruito dalla squadra con l'1-2 fra me e Scevchenko e queste sono cose belle. Parte Chiesa, ricorsa breve, il tiro, rete, che gol, Enrico Chiesa, 1-1, ancora lui. Valore che si impegna dalla zona di Scevchenko, verso Inzaghi, lo stop, Inzaghi, Inzaghi, a terra, attenzione, Sacani dice che è tutto regolare. Ammonito Inzaghi, il Milan al 24esimo del primo tempo, ha reclamato il calcio di rigore. In base a queste immagini, ognuno da casa si può costruire il suo personale giudizio. Parte il traversone, Laursen, rete, rete, 2-1. Inzaghi, Pierini, disastro, arriva Inzaghi, portavuota, Inzaghi, rete, super, Pippo, Inzaghi, 3-1. Ci tenevo tantissimo a esordire con un gol davanti ai miei nuovi tifosi, ci sono riuscito. In aria, Serginio, Laursen, Inzaghi, non ci arriva per un soffio. Palli in aria, rete, ancora lui, Enrico Chiesa, 4-1. Pallone difeso a Nuno Gomez, l'assist per Chiesa, il controllo, Chiesa, il tiro, rete, che gol! Se ne va a Cerchenko, punta verso la porta per stare, c'è anche Inzaghi, a sinistra, Serginio, il pallone per lui. In aria, Serginio, pallo sul sinistro, il tiro, rete, rete, Serginio, 5-2, è partita finita! C'è la prima standing ovation a San Siro, con la maglia del Milan per Pippo Inzaghi. Un gol, un assist straordinario, una partita decisamente incisiva. In c'è 5-2, la Milan prova a camuffare la sua soddisfazione Fatih Terim. It just takes some time, little girl, in the middle of the ride, everything, everything will be just fine, everything, everything will be alright.